Buonasera a tutti! Buonasero! Siamo sotto il pioggio! Siamo con l'ombrellona di zio! E' molto grande, se lo vedete vi spaventate! Fa pure il rumore, fa il suono! Lo vedete, guardate com'è bello! Allora, vedete io sto con il mio amico che ho incontrato ieri, si chiama Ambrogio, saluta! Io sono Ambrogio e sono contro la discriminazione dei pregi contro i quadri! Ma è Ambrogio, non ti dice! E sono pure contro il nazismo e pure contro... Però mi piace tanto, tanto, tanto il Pino Giordano che fa le canzoni dunz dunz dunz! Lo conoscete? Guarda che cazzo le canzoni! Allora, tu sei contro il nazismo e ti piace Pino Giordano ma non sia normale! Ma perché Pino Giordano è nazista? Sì! E che si mangia? Perché... Perché si mangia di cani? Non ho capito! Non c'è idea! Uuuuhh... Lui, io vi devo lasciare perché il mio cellulare sta prendendo fuoco! Uuuuuuuuuuuuuuu! Lui, un po' dei fuoconi! Lui, un po' dei fuoconi!